Sono diversi i punti in cui i cubi di Porfido o di Selci in centro città mostrano inevitabili segni del passare del tempo. In alcuni casi, come in Via Nolfi o in Piazza 20 Settembre, sono vere trappole per pedoni, bici o carrozzine. Da oggi però due aziende, la Laziale Scavi di Roma e la TMG di Sondrio, stanno lavorando al ripristino del piano calpestabile in centro con interventi mirati. Si è partiti da Piazza Costanzi e si passerà poi in Via Nolfi, entro la riapertura delle scuole. Ha in asse di partenza quindi anche il piano asfaltature per il quale operano le due aziende, che dopo lo stop della stagione estiva riparte con tutta una serie di interventi in diverse zone della città. I lavori che state vedendo in centro storico fanno parte del piano asfaltature dell'anno scorso, quindi 2018-2019. È stato pensato di intervenire nelle zone più pericolose del centro storico, quindi non è una vera e propria riqualificazione, ma questi punti più pericolosi, come per esempio vicino alle scuole dell'Olivetti, dove interveremo prima dell'inizio della scuola, verranno sistemati questi affossamenti oppure buche sui sanpietrini o sul secciato del centro storico. Contemporaneamente stanno partendo anche le asfaltature, sempre che fanno parte del vecchio piano asfalti. Era la palda di circa 2 milioni di euro, che era stato interrotto per i mesi estivi, per problemi di reperibilità di materiali e ferie delle ditte. Le prossime vie interessate dalle asfaltature saranno in zona retrostazione ferroviaria, traverse dell'Ido, lato Pesaro, strada dell'aeroporto, zona stadio e foro Boario, poi a Carrara di Fano e si passerà al quartiere di Centinarola ed alcune strade di Bellocchi, all'Arzilla e in Sassonia, per chiudere così il piano asfaltature 2018.